Giuseppe, un uomo silenzioso ma un gran lavoratore, un uomo semplice ma coraggioso, uomo di Dio, grande nella fede. Gli apparve un angelo del Signore e disse Non temere di prendere con te Maria, tua moglie, poiché quel che è generato in lei è opera dello Spirito Santo. Nessuno ha piacchierato troppo di te, poche notizie, poche impettevole, solo l'Evangelista Matteo dice Non colpare mai più in prima persona. Nessun evangelista ha riportato una frase, una parola, delle molte che sicuramente... Eppure, pensate sui soli e sui braci dell'unità. La mia vita è la mia vita. E i tuoi uomini, mi sono stati tra te e di Maria e il tuo rapporto con Gesù durante gli anni di nascosto nell'intimità della tua casa. La mia vita è la mia vita. La mia vita è la mia vita. La mia vita è la mia vita. Concepirai e darai alla luce un figlio Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo Lo chiamerai Gesù Salirà sul trono di Davide, suo padre E salverà il suo popolo dai suoi peccati Ma come è possibile Poiché non conosco uomo Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Santa Maria Madre di Dio Prega per noi Peccatori Adesso E nell'ora della nostra morte Amin E nell'ora della nostra morte E nell'ora della nostra morte E nell'ora della nostra morte